pensa che sei un padre esagerando non solo per le tue tre figlie ma anche per la tua community pensa quanti hai aiutato sta cosa mi fa veramente molto bene ogni giorno ricevo persone che mi dicono mi hanno preso a fare un internship in Amazon se non era per te che non mi muovevo il culo e mi mettevo a studiare ad applicare, a fare questo credo di aver smosso qualcosa penso dai messaggi che ho ricevuto boh, una cinquantina di persone almeno hanno fatto poi non è merito mio sicuramente le persone che magari grazie ai miei contenuti hanno smosso qualche qualche neurone incastrato si è liberato sono andati a studiare, a schillarsi ad applicare, hanno scoperto l'esistenza dell'intership all'estero e hanno fatto i primi passi per volare a me questo riempie di gioia sì, è vero mi riempie di gioia e ogni volta qualcuno ditemelo se succede se qualcuno di voi non lo so fa una cosa bella carrieristicamente e un minimo sono soldi perché se l'ho ispirato io ditemelo mi fa più piacere di iscrizione di qualunque altra cosa cosa si prova ad aver migliorato a volte anche stravolto in meglio l'intera vita di una persona vabbè qui siamo ora all'autocelebrazione più pura non pensi di aver stravolto l'intera vita di una persona cosa si prova a migliorare la vita di più per di persone è la sensazione bella bella e cozza tantissimo con quando stavo in google quando ero in google in teoria stavo su uno strumento che poteva migliorare la vita a miliardi di persone quindi avevo una leva mostruosa se riesco a fare qualcosa di buono dentro google ho fatto una cosa che arriva a tre miliardi di persone è una roba fantastica non sono riuscito a fare niente di interessante lì dentro per cui oggi magari ho una scala più piccola però magari impatto qualcuno e miglioro la vita in qualche modo a qualche persona e è tutto cioè perché vengo volendo perché non vedo da ritornare qua perché non vedo da rifare i prossimi contenuti perché questo rimane migliorare la vita delle persone rimane un domani uno gli dice rip oggi sono diventato director in facebook è tutto iniziato perché tu hai fatto un video interessante questo rimane è tutto iniziato